Alla scelta E'y unang pinupuligat, anong po ba naging cost po? I'y unang ano. Na-chess lang tulad yung bibo I'y unang gabi po pinuligat ang ulo na sakit Grabe po magkano'n kayo. Tisto lang Yung inipag po kami nakupunta dito? Ah, hindi kami po Ano po yan bago matulog? Hindi, pag mapinuligat, mag-tisto po kayo Pag kinupuligat Diulo Sì, non è vero. la mia la mia la mia l'anno la l'anno la mia l'anno la mia la mia l'anno C'è un po' di più, ma c'è un po' di più. No, non, 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 non. Si, è il giusto Sì, è il giusto Guardi le cose per dimostrare Si, è tutto il giusto Sono molto più rilevo È un giusto Si, è un giusto Sì, è tutto il giusto Se lo faremo, sono attenti Tissementci Il giusto Tutti Ilang beso che si tommo in un giorno, quando si è avuto lalapit, non si può essere. E' un'unico che è un'unico, ma è un'unico. E' un'unico che è un'unico. E' un'unico che è un'unico e. E' un'unico che è un'unico. e 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 Grazie a tutti